Nonostante l'accesa polemica assorta fra la Lega e Forza Italia e il conseguente rinvio della conferenza ufficiale di presentazione della candidatura a sindaco di Sanremo di Sergio Tommasini, che era prevista per questa mattina, gli esponenti del Carroccio sono scesi in piazza a sostegno di Tommasini. La polemica è stata accesa dal viceministro Edoardo Rixi, che ha respinto l'alleanza con Forza Italia dopo l'astensione al voto sul decreto Genova del partito di Berlusconi, compreso il senatore genovese e coordinatore regionale Sandro Biasotti. Questa mattina la conferenza di presentazione della candidatura di Sergio Tommasini è saltata, ma nelle stesse ore la Lega ha organizzato una serie di banchetti nella città dei Fiori proprio a sostegno di Tommasini, che era presente in piazza Colombo, dove ad appoggiare alla sua candidatura sono intervenuti anche esponenti di Fratelli d'Italia. Altri banchetti sono stati organizzati dalla Lega Sanremese, sempre oggi anche alla Foce, in piazza San Siro e in via Matteotti. Forza Italia a livello locale al momento non interviene e probabilmente lavora per sanare l'ennesima frattura fra gli esponenti vicini al presidente Berlusconi, che mal sopportano l'alleanza con i leghisti, e quelli invece vicini a Giovanni Totti, che al contrario la ritengono un'alleanza imprescindibile. Sergio Tommasini dal canto suo rispetta le dialettiche nazionali e dopo aver rinviato la conferenza di presentazione della candidatura non si scompone e prosegue la sua campagna elettorale.